E' stato un giorno dell'epifania davvero molto speciale per i piccoli ospiti del reparto di pediatria del di Miccoli di Barletta. Speciale proprio come la Befana che questa mattina ha fatto loro visita portando con sé un sacco pieno di doni. Per una volta non è arrivata a cavallo della sua tradizionale scopa, ma calandosi con un'imbragatura dal terrazzo dell'ospedale per poi raggiungere i bambini attraverso una finestra. Ad assistere la spericolata vecchina con un'autoscala i vigili del fuoco del comando provinciale BAT che hanno preso parte a questa bella iniziativa per regalare un sorriso ai piccoli pazienti del nosocomo. L'obiettivo è prima di tutto sociale, noi ci preoccupiamo di questi poveri bambini che sono costretti a passare questo giorno festivo purtroppo nel reparto. L'obiettivo è alietare la giornata di questi bambini. Oltre a questo obiettivo c'è anche un altro importante obiettivo per il nostro corpo, in particolare per il comando, che è quello di eseguire delle manovre che sono manovre di tipo complesso e quindi uniamo sia l'aspetto sociale per i bambini anche all'aspetto di tipo addestrativo. L'iniziativa è stata realizzata grazie al supporto di diverse associazioni come la compagnia teatrale Fatti di Sogni, le cui comparse vestite con costumi fiabeschi hanno alietato la consegna dei doni, il Rotary Club e l'Avis di Barletta che a partire dal mese di dicembre si sono adoperate per raccogliere i giocattoli da regalare ai bambini. I bambini aspettano la Befana per i giocattoli, è un momento di svago, un momento di crescita anche attraverso il gioco, cioè la crescita dei bambini e chiaramente essendo ricoverati diciamo gli viene a mancare questo momento anche di crescita personale attraverso il gioco. Un appuntamento tradizionale, quello con la Befana in pediatria del Di Miccoli, organizzato anche quest'anno in collaborazione con la direzione sanitaria dell'ospedale di Barletta. I vigili del fuoco insieme anche a tante altre associazioni sono vicini all'ospedale, sono vicini alla popolazione che in questo momento soffre. I bambini sono chiaramente i più fragili e quelli che risentono anche dell'assenza delle festività. Noi ringraziamo i vigili ma anche tutte le altre associazioni che insieme migliorano l'umanizzazione delle cure nel nostro presidio ospedaliero.